Presso l'ufficio condono sono giacenti un ingente numero di pratiche che riguardano soprattutto gli immobili in zona vincolata. Stimiamo che si tratti di circa 20.000 pratiche, la cui definizione non può essere fatta attraverso la procedura di autocertificazione che pure invece ha dato dei risultati notevoli per lo smaltimento delle pratiche di condono in zona non vincolata. È stato pubblicato oggi l'avviso pubblico che consente a determinate categorie di professionisti, nello specifico architetti, ingegneri, periti e geometri, di presentare domanda per iscriversi all'interno di una nostra short list da cui prenderemo poi professionisti che ci coadiuveranno nella istruttoria delle pratiche di condono in zona vincolata. Siamo arrivati a questo provvedimento che noi chiamiamo di esternalizzazione guidata proprio perché c'è un ingente numero di pratiche di condono in zona vincolata, circa 20.000 giacenti e tramite il ricorso al solo personale interno non eravamo in grado di smartilla in tempi brevi e di dare ai cittadini quella risposta che aspettano ormai da tempo. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, ci abbiamo lavorato tantissimo con il dirigente Nurcato e con tutto il suo team e siamo convinti che possa rappresentare oltre ad una soluzione del problema dello smaltimento delle pratiche ma anche un'importante occasione di lavoro per i professionisti e per i giovani che hanno i requisiti che sono previsti nell'avviso pubblico. Tutta la procedura si svolgerà nel massimo rispetto del criterio della trasparenza e gli incarichi saranno poi attribuiti a quegli esperti che sono stati inseriti nella short list in quanto in possesso dei requisiti richiesti sulla base del principio della rotazione degli incarichi ed utilizzando un software che abbiamo predisposto appositamente.